Ora sei in un gruppo, ora sei capogruppo, gli esploratori del teatro hanno individuato un deposito munizioni dei trussons al dipartimento di giustizia. Sono alcune casse di munizioni corazzate nel cortile principale, servirà dell'esplosivo per distruggerle, ma dovresti trovare del C4. Grazie. 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 Rilevato 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 Grazie. 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 Piazza il C4 sulle casse di munizioni. Grazie. 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 Ti vedo, agente. Grazie. Grazie. Ora allontanati prima che escono. Vediamo. Si sta spostando, non riesco a vedere 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 Ah, è tutto ok, no, oh yeah. Dai mio! Dai mio! Dai mio! Dai mio! Dai mio! Oh Siete fregati Siete fregati Siete fregati Siete fregati Vada oh Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Altri contatti. a tutti. Ehi, agente.